Oh se volete, c'è Ram Mac, penso che fosse la stream ma pure lui Ah no vabbè me con voi, niente, non vi posso Le bano, ma è le bano Vabbè ma che ce frega dello stream cheating Ma questa partitella mu No ma giocano con noi, non è Sì sì sì, ho visto Ah tu dicevi di fare stream cheating Non so neanche che paremmo, vabbè andiamo con gli etio Birmani, mongoli, poemi Alla lì Allora Allora E' la che vuoi all'i O che stai chiamando il pocket E' sì O che stai chiamando Ma perché non viene mai il pocket mio porca madonna Cioè Ma che c'hanno le persone Cioè è possibile Cioè sono poco ritardati Cioè Aspetta che chiudo e poi i vicini Cioè non è possibile che so così ritardati cazzo Ma i vicini con Kelvin Chiamano il prezzo Ma porca puttana Cioè una cosa devi fare Devi veni a aiutare il flank a wallah Porca puttana Non vengono Cioè Mi trovo sempre col flank di quell'altro Figo non rosicare Figo Ancora che rosichi sei La partita D'altra volta Sì ha scritto in chat Strano non vedo hack con i Celti Minchia ha preso proprio Legno Non vedo hack con i Celti non Grazie a tutti 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 Capitano e prendi le tue boate Quello che posso Gli atterattere ragazzi Grazie a tutti 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 Infatti Ma tu dove sei Grazie a tutti Quindi siamo tutti Quindi siamo tutti in salita No vabbè ma noi Kelvin il capitano e Simone sono Non sono 1.9 per scelta Esatto Oppure i 1.4 gioco Oppure i 1.4 gioco Che cazzo Che cazzo la tua merda Cazzo la tua merda E' autorizzato E' autorizzato E' autorizzato Una mappa figa è quella dell'oro Tipo corsa all'oro Possa dorata Una figata Sì ma dobbiamo fare Sto torneo ragazzi Un po' tutte le mappe E so che ogni tanto Sì sì Però c'è un po' Che mi piacciono più Di altri Dobbiamo fare Il torneo Con età massima Feudale Ma il 2v2 Che voleva principe Si farà Eh Ragazzi Per me 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 Grazie a tutti. Adesso a Castelli. Ah, che l'hai fatto... Ho fatto la Slow Castle. La Slow Castle è tanta roba, ragazzi. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. E io che faccio con gli Etiopi, posso fare gli Shul, Telk? Perché siamo? Birmano e Mongolo, minchia. No, usando il mercato come dei borsennati, eh? Tutti a comprare, cazzo. Come i saraceni. Eh, dove stanno i saraceni? No, non ci stanno, ma qualcuno sta proprio abusando. Cioè, io volevo comprare un po' di cibo, il cibo basta 174, cazzo. Beh, conviene venderlo, ma io c'ho già tutta tantissimo ora come serve. Ma come funziona il mercato? Io non l'ho mai capito. Cioè, se io compro cibo, io non l'ho mai capito. Cioè, se io compro cibo, alzo il prezzo di ventita o di acquisto? Vabbè, funziona come funziona il mercato normale Più lo richiedi è più a mente il prezzo Ok Le leggi di mercato universali Quindi più vento legna e più si abbassa il prezzo Sì Ok Menti cibo, ok Comunque se vuoi fare una prova ti starti una partita Utilizzi i trucchi e vedi E provi a vendere qualcosa e vedi come funziona Sì, tanto domani faccio la sfida dell'evento Che sfida c'è domani? Questa qua ha dei pinguini simpatica Pinguini? Sì, ce le vendo dai pinguini Non avete visto? Festa dei pinguini Ma voi seguite ste cose? Eh, a volte fanno moddo, icone simpatiche Questa dei cinghieri l'ho presa ad un evento Ma basta che se le prende uno poi le può passare agli altri Non lo so Sì? Eh certo Cosa fai con... Rino, cosa fai con gli etiopi? Ah, perché ho visto che gli altri hanno... Picche? ...se birmani Quindi faccio picche assedio Hanno bonus di assedio agli etiopi? Eh sì, sì, hanno del castello proprio Questa roba qua Che è l'area di impatto di metà del 100% è aumentata Quindi aumenta di tutti... Aumenta l'impatto di tutti... Tutti il sito Sì, esatto, io faccio le bombarde comunque Ho troppo oro, raga Vabbè, troppo servirà Sì Serve il cibo Questa che è la foresta nera? Cioè praticamente dopo la Slow Castle La Slow Imperial Inizia compare Aumenta l'impatto di metà del 100% è inizia Oh, comunque Rami Sta... Sta giocando Sì, non so dove va Va per i cazzi suoi A me lo avvisa Balistica Balistica Non è che mi serve Non è che mi serve No Ah, quindi balistica non influenza le bombarde No, no, no Mi spiace ma qua già c'è io crollo Esistissimo Cosa è sto idiota Proprio un idiota, guarda Questa la può fare Non l'avessi pingato Capito Capito? Dica a me Non mi viene No, appena si tessi di cazzo Molti Cioè Attento al castello Minchia, le perdi Vabbè Perdono anche loro Cazzo di roba Ma Scusami Il viola Che cazzo sta combinando Sì, siamo andati all'altro lato A me la vita assera però Sinchia, da solo ti lasciano Sì, non era un problema Però me lo diceva Portati le picchie avanti Che ti stanno attaccando Il nulla E' diente a casa Oh Oh Oh, è davanti Oh 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 Fucker Ho cercato una vita per sbaglio Li puoi fare entrare nel castello Eh no Dai ieri no Ma tu guarda Ripetiti alla pietra Bravo Cioè Gli stanno valendo là tutti I cavalli I trabucchi 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 Grazie a tutti. 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 Why? Vai. Non so come... E' proprio stupido. cazzo di genio. e... e... cazzo di... ciao... mamma... e... ... e... e... di... ragazzi... ci... ciao... super...